La proposta di AM Invest Co. va respinta totalmente e quanto dichiara con fermezza Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. Il nuovo piano di Arcelor Mittal sa di ricatto e non garantisce comunque né tutela dei posti di lavoro né tutela della salute del territorio. La proposta di AM Invest Co. va respinta totalmente non solo perché prevede circa 6.000 esuberi, già di per sé un fatto inaccettabile, ma soprattutto poiché è inaccettabile che un governo debba cogliere una proposta al ribasso sulla pelle di lavoro e salute dopo che vi è già un contratto firmato che Mittal non sta rispettando. Ritengo che oggi, come non mai, sia necessario che il governo imponga una nuova aia che contenga la valutazione del rischio e dell'impatto sanitario per definire quali siano gli standard tecnologici e di tutela dell'ambiente adeguati ad un livello di produzione inoffensiva per la salute pubblica. Solo questo può mettere tutti di fronte alle scelte definitive da compiere. Basta ricatti e basta svendite di Stato, conclude Borracino. Credo che ogni iniziativa di mobilitazione per ricevere risposte definitive debba essere sostenuta ed io ed il mio partito lo faremo.